Siamo ai primi passi, siamo ai primi passi perché abbiamo scoperto i primi pianeti, 6.000 ma non sono tantissimi 6.000 rispetto a miliardi che dovremmo ancora scoprire. Abbiamo scoperto alcuni pianeti simili alla Terra ma non gemelli della Terra, pianeti diversissimi da quelli che notano il sistema solare e il compito dei prossimi anni è quello veramente di trovare un pianeta che assomiglia un po' di più alla Terra, che offre le condizioni di vita così come il nostro pianeta le offerte a noi da 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi siamo ai primi passi di un'avventura che sarà ancora lunga e certamente affascinata.